E cambiamo nuovamente argomento, passiamo al momento comico di questa serata e sono lieto di presentarvi un comico d'eccezione, o meglio un barzellettiere, quindi vi prego di fare un grosso applauso a Vito Ardito! Piedino va al supermercato con la nonna, trova per terra una moneta e dice alla nonna «nonna, nonna, posso rastogliere quella moneta per terra?» Mentre tornano il supermercato, la nonna in stampa è stata e chiese al peggio di darle una mano, ma le riporte «no, nonna, non si rastogliono le vostre per terra!» «No, bellissima, grazie, grazie Vitino, grazie, prego!» «Bellissima, grazie!»